Ben tornati ragazzi e come promesso vi mostrerò come aggiornare quella lista e non sovrascriverla in pratica la mia idea era quella di ricaricare totalmente la lista in memoria centrale dal file aggiungere come se niente fosse e poi riscriverla totalmente in questo modo potrebbe essere sprecato un po' di tempo di calcolo ma è l'unico modo che io conosco per stampare degli oggetti, degli struct in un file quindi come fare? è facilissimo, semplicemente ponete qui oggetto, quello della classe lista uguale a file.leggi del file.io vedete? in questo modo lui legge dal file ed inserisce tutto quello che trova nell'oggetto ora in questo cinema.dat io lo so che cosa c'è, adesso ve lo faccio vedere metto un attimo questo qui sopra ah no, devo metterlo sotto ecco qua in questo qua, qui sopra c'è c'è, ci sono fatemi vedere, ecco qua titolo 4 e titolo 3 vedete? io adesso vado a inserire altri altri cosi ad esempio 3000 inseriamo il codice facciamo 2 e il titolo, ormai stiamo andando a ritroso facciamo lo titolo 2 continuiamo facciamo sì, dai inseriamo un altro prezzo che non ci importa tanto il codice è importante è 1 il titolo è importante diamo tit 1 vuoi continuare? no vuoi stampare la lista del file? questa volta noi mettiamo di sì e lui va a leggere dal file ah abbiamo tolto da qui dentro la la stampa quindi non vedo come possa in nessun modo stampare ok chiedo scusa vabbè ad ogni modo se riavviamo il programma dovrebbe adesso mostrarmi 4 oggetti eccoli qua come vedete l'abbiamo aggiunto senza nessun problema io ho praticamente finito ah sì 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 giusto 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 un'ultima cosa che ho dimenticato di dire nello scorso video se non vi funziona è perché voi dovete implementare serializzable alla classe lista struct e file.io questa cosa non ho capito neanche io bene come funziona ma se vi da l'errore di cioè l'eccezione di non serializzato semplicemente fate implement serializzable tutte le classi tranne il main poi dove non ce n'è bisogno vi uscirà qui la va bu dove non potete farlo sicuramente non ce n'è bisogno questa esce lo stesso perché vuole che la classe sia statica e finale infatti non cambia assolutamente nulla se ce lo metto non cioè funziona tutto perfettamente ma non cambia nulla io non so che cosa significa questo va oltre la mia conoscenza e adesso io vi saluto perché la vita è breve e quindi vi ringrazio per essere stati con me lasciate un like condividete la serie con chi ha problemi in japa magari proprio su questo punto e mi farebbe tanto piacere se mi seguiste su instagram si ok ho finito potete anche andarvene se non ve ne siete ancora andati ciao 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 ciao